Sicuramente l'evento che marca dall'Italia da 14 anni sono due gare e il campionato del mondo di Xtria. L'hanno fatto il 12 e il 13 dicembre 2020. Quando si terranno e dove? Si terranno qua a Ponte di Legno nel palazzetto dello sport, grazie all'amministrazione comunale e grazie a tutti gli sport che ci vorranno riappare. Sicuramente l'evento dove i 9 biglietti migliori del mondo si scontreranno per portare a casa il tutto, tra l'ultima gara dell'anno scorso. Invece questa sera c'è stato l'anteprima? C'è stato l'anteprima per far capire la valenza dell'Indo, non solo dell'Auto, quindi l'importanza che ha lo spettacolo del Real per far conoscere la nostra specialità. C'è grande entusiasmo per l'appuntamento di domenica? Sì, domenica è l'ultima gara del campionato italiano, un grande lavoro della nostra associazione e speriamo di portare a casa anche un titolo come Motoclub e sicuramente una grande esperienza. Grazie a tutti.